Rinviata al 19 febbraio del prossimo anno l'udienza del processo Gorgoni, l'inchiesta è la DIA di Catania che vede coinvolte 11 persone rinviate a giudizio a vario titolo per corruzione, turbativa d'asta e associazione mafiosa. Dai legali di quasi tutti gli imputati è stata chiesta l'astenzione con la concomitante sospensione dei termini. L'inchiesta Gorgoni è legata alla gestione dei rifiuti nei comuni di Trecastagni, Acicatena e Misterbianco e vede il coinvolgimento di funzionari e ruoli amministrativi. Secondo la procura la F Servizi Ecologici guidata da Vincenzo Guglielmino avrebbe fatto pressioni per assicurarsi l'appalto. L'amministratore della società viene anche ritenuto uomo di riferimento del clan Cappello. Nell'udienza di oggi è stata stralciata la posizione del solo Lucio Pappalardo che secondo l'accusa avrebbe fatto da tramite tra la cosca mafiosa e il suo riferimento amministrativo all'interno del comune di Acicatena.